... nell'agricoltura. Investire di più in agricoltura è il monito lanciato dal Ministro delle Politiche Agricole Mario Catania. Ci sono tutte le ragioni perché noi possiamo e dobbiamo continuare a investire nel settore. Tenendo ben presente che la redditività delle imprese agricole oggi è molto bassa, quindi c'è un rischio forte che molte imprese possano abbandonare e noi questo lo dobbiamo assolutamente...